Ciao a tutti, siamo i ragazzi e i ragazzi del BookBlog, sono Giacomo Bosco, sono qui con il generale Francesco Figuolo per farle qualche domanda. La prima cosa che volevo chiederle è qual è stato il momento di maggiore soddisfazione durante la gestione della campagna vaccinale? La soddisfazione maggiore è stata quella di girare l'Italia e trovare tantissimi bravi italiani che hanno dato una mano per la campagna vaccinale, per l'organizzazione e la gestione della campagna, soprattutto il mondo del volontariato, cui non si dice mai abbastanza volte grazie, voglio approfittare di questo per ringraziarli ancora. La seconda domanda che volevo farle è come si è trovato a collaborare con le varie associazioni che hanno dato la loro disponibilità, per esempio la Croce Rossa penso. Sì, non solo la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini, poi la Protezione Civile, ma parliamo di Sant'Egidio, la Misericordia, la Croce Verde, c'è stata l'Associazione dei Carabinieri. Quindi davvero una rinascita di tutta l'Italia, proprio spontaneamente. Chiaramente noi l'abbiamo messa in maniera sistematica, con la mia organizzazione, con la struttura, in modo tale da dare la parte informatica, la parte logistica. E poi abbiamo soffritto di spazi che sono stati messi a disposizione da imprenditori privati, da grandi associazioni bancarie, dalla grande distribuzione, dalla conferenza episcopale, per esempio. E questo è stato bello, perché di fatto l'Italia ha tutto, bisognava solo metterli insieme, fare squadre e poi abbiamo fatto una campagna strepitosa. La ringrazio molto, grazie.